Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale Allora, oggi volevo mangiare come promesso un bacio d'aria il tortino, questo qui, alla cioccolata e ho fatto anche oggi una vivanda e in questo caso un centrifugato ah, io ho centrifugato in questo caso, un finocchio, due mele verdi e un pezzettino di zenzero è meraviglioso il tortino è questo qui della marca Back Love meraviglioso, ce ne ho provati altri sul primo canale, ne trovate proprio una valanga ed è la torta SAKER SAKER e quindi la voglio assaggiare senza uova senza burro, senza latte ed è pure senza culine quindi perfetta perché fa le intolleranze e quindi qui si ora il problema è aprirlo sul primo canale di solito, ammazzo le confezioni qua, lo il problema è tutto a presto eccolo qua come si presenta carino, è una buona porzione praticamente di dolcetto, 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 dolcetto ora la facciamo praticamente dentro, ha tutta una crema di albicocca che un'altra volta mi sono dimenticata, non so se provarlo con un cucchiaio cing ching, la ragazza vedete quanto è bello perché mette dentro c'è tutta la crema di albicocca, meraviglioso il cioccolato è stupendo, pure senza occhioni la crema di albicocca, meraviglioso la crema di albicocca, meraviglioso la crema di albicocca, meraviglioso una dolce merendina non Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un suono molto soft perché è appiccicoso. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.